Allora, siamo qua in compagnia di uno dei nostri nuovi collaboratori e clienti di White Press. Innanzitutto vi ringraziamo per la collaborazione con le fonti. È un piacere conoscermi. Io mi chiamo Giovanna e rappresento appunto White Press. È una piattaforma di content marketing. In modo semplice posso descriverla come un posto dove si incontrano gli editori con gli inserzionisti. Con un solo account nella nostra piattaforma potete raggiungere 30 paesi del mondo in cui siamo presenti e pubblicare i vostri articoli o realizzare le vostre campagne promozionali di link building su 68.000 portali in 28 lingue. Quindi è questo proprio il bello della nostra piattaforma che siamo presenti praticamente in quasi tutto il mondo e potete, grazie alla nostra piattaforma, appunto fare un lavoro molto semplice per realizzare grandi progetti promozionali. Ottimo. E come vi state facendo conoscere sul mercato italiano? Come vedete siamo presenti qua in questo evento e stiamo cercando di essere appunto presenti in tutti i più importanti eventi relativi al nostro settore, il settore del digital marketing. È qui che abbiamo la possibilità di incontrare tanti rappresentanti dello stesso settore, di fare networking, di conoscere gente e di farci conoscere, di presentare proprio sul posto dal vivo la nostra piattaforma, come si presenta, come funziona. Questo per noi è molto importante. Perfetto, allora la ringrazio e un forte in bocca al lupo per i vostri prossimi progetti. Grazie a voi, grazie a voi. Ciao, noi siamo qua in compagnia di... Valentina Turchetti. E Marco Maltraversi di Your Digital Web. Allora, qualche commento a caldo su questo MB Summit che è in corso. Sì, direi che siamo solo all'inizio, ma i feedback sono già molto positivi, nel senso che ci sono persone che hanno ringraziato anche il fatto di avere portato un contesto estremamente internazionale a questo evento. Quindi si respira da una sera internazionale e ci sono tante possibilità, tante opportunità di fare business appunto non solo nel nostro contesto, quello italiano, ma in tutta Europa. Magari vuole aggiungere qualcosina? Sì, no, quest'anno abbiamo tanti sia relatori internazionali ma anche partecipanti che vengono un po' da tutta Europa, dalla Finlandia, dal Portogallo, da Dubai. Quindi è una cosa che ci rende molto felici perché finalmente abbiamo fatto lo step perché volevamo portare anche del pubblico straniero qua alla MB Summit. Quindi insomma, il processo di internazionalizzazione è riuscito quest'anno. Quest'anno sì. Esattamente, sì. Era l'obiettivo che ci eravamo dati appunto per questa sesta edizione. Bene, allora in bocca al lupo anche per le prossime. Speriamo che vada avanti così. Grazie mille e ci vediamo per il prossimo anno. Grazie, grazie. A voi, buon proseguimento. Ciao a tutti, amici. Siamo questo evento, uno dei massimi eventi non solo di Milano ma in Italia, l'MB Summit. L'evento è particolarmente interessante perché forse è l'unico evento in Italia per quanto riguarda il tema digital marketing internazionale. è internazionale perché facendo anche un giro qui vi rendete conto che non ci sono solo italiani ma anche persone che parlano anche altre lingue ed è molto interessante perché soprattutto una città come Milano è arrivato il momento di confrontarci anche con altri, è arrivato il momento di non stare sempre chiusi dentro il nostro orticello e di scambiare anche un po' di chiacchiere con gli altri. Quindi diventa fondamentale ovviamente la conoscenza dell'inglese però anche per lavorare nel nostro settore ad un certo livello se non sai l'inglese diventa molto di molto difficile. Le tematiche trattate sono tutte, diciamo se immaginiamo un funnel di inbound marketing le abbiamo tutte email marketing, SEO, social media, è un evento al quale sono molto legato perché da un paio di anni sono il moderatore io in particolar modo modererò la giornata, il pomeriggio del sabato, quindi domani e vi aspetto numerosi e se avete voglia, insomma sono in giro, fatemi qualche domanda e ci vediamo in giro, dai! Grazie a tutti!